Io non credo ancora ai miei occhi, io ancora faccio fatica a credere che tutto ciò sia reale e possibile, ma, ma, veramente, ho letto una notizia da, no, da sgrano agli occhi, no, mi si sono dilatate le pupille, faccio fatica a mettere a fuoco, metto anche gli occhiali per essere, eh, con il focus adatto. Ma, delirio e dilettantismo, è questo che sta diventando la Serie A, perché se dopo tre giornate e sono in un allenatore e l'altro, l'altro dopo che l'anno scorso ti ha fatto salvare, molto probabilmente seguirà la stessa sorte, è perché veramente c'è delirio e dilettantismo. In Serie A c'è delirio e dilettantismo, questa cosa mi fa male, lo sapete ogni volta quanto mi infastidisce vedere il livello della Serie A di giorno in giorno sempre di più abbassarsi. Però, tutto ciò è dovuto anche al fatto che forse ci sono delle società, forse a questo punto, anche, anche inadeguate. Ma ci arriviamo, prima vi voglio invitare a lasciare un like, a iscrivervi al canale, se diciamo di concetto base sto, sto discorso vi aggrada, altrimenti non fa nulla, ci mancherebbe altro e perché no, sempre comunque scaricare l'App One Future, perché se la scaricate, arrivate prima sulla notizia, se la scaricate, siete già aggiornati, se la scaricate, la scaricate, lo fate in maniera anche, anche gratuito e state sempre lì a parte gli scherzi attivi. On time, ma parliamo delle sonnero di Francesco, scendiamo ovviamente nel dettaglio di Francesco, allenatore a mio modo e a mio giudizio, che vale poco di zero il mio giudizio in questo caso, perché non sono un suo collega, ma a mio modo mediocre, mediocre per come fa a giocare le sue squadre, mediocre per quelli che sono gli ultimi risultati, sì, sì, ma tutto ciò e tutto quello che gli sta piovendo addosso a quest'allenatore, ha poco a che fare comunque con il fatto che tu lo cacci a calci nel sedere dopo tre giornate, perché se tu lo reputavi già mediocre, non lo metti al comando, e quindi se lo metti al comando e lo vai a esonerare dopo tre giornate, significa che tu società, se lui è mediocre, tu sei peggio, sei peggio, ma decisamente peggio, ma assolutamente peggio, ecco perché dico delirio e dilettantismo che si fondano all'unisolo, no? Si fondano, e non ci posso credere davvero. E poi, detto tra noi, vedendo anche quelle che sono state le prime tre partite, non ha fatto neanche male, se poi vogliamo andare a basare, se andiamo a valutare quello che magari i tifosi del Verona hanno visto. Attenzione, se si aspettavano Juric, Juric ce n'è uno, eh. Juric, Juric ce n'è uno. È normale che se perdi l'allenatore che è stato quello che ti ha fatto il balzo in avanti e pensi, no, che l'obiettivo del Verona non è più la salvezza, ma è una metà classifica, allora non hai capito nulla, è ancora peggio. L'errore è ancora più grave, l'errore è ancora più grave. Togli Juric e togli Zaccani, se ti salvi va già di lusso. Ancora di più questo ha valore il concetto che non puoi esonerare l'allenatore dopo tre giornate per la classifica, perché sei a zero punti. È normalissimo, è normalissimo. È lo status della tua squadra, essere a zero punti dopo tre giornate. È la normalità. Quindi non possiamo valutare il risultato della classifica con l'esonero. No, noi dobbiamo valutare l'esonero con quello che la squadra ha recepito dopo tre giornate. Dopo tre giornate il Verona, secondo me, non aveva fatto neanche male, male, perché ha perso due sfide contro due squadre nettamente superiori. Una all'Inter, tra l'altro non sfigurando neanche, e l'altro è il Sassuolo, che tra l'altro è stata una partita anche condizionata da un'espulsione. Comunque il Sassuolo per me è una squadra fortissima e quindi ci può stare. Ieri ha fatto male, col Bologna ha fatto male, ma per una partita talmente negativa tu hai solo l'allenatore. Cioè, ripeto, per me questo è delirio e dilettantismo. Attenzione perché il Verona, secondo me, farà fatica. Farà fatica perché hanno azzeccato Juric, ma adesso va via Juric, se tu lavori in questo modo, senza progettualità, così tanto come capita, per favore poco rumore. Secondo me non si va da nessuna parte. E, attenzione, sta facendo peggio, forse farà peggio, decisamente peggio addirittura il Cagliari. Cioè, io non me l'aspetto del Cagliari. Io non me l'aspetto del Cagliari una roba di questo genere. Io non me l'aspetto nella maniera più assoluta. Cioè, semplici, ti ha fatto l'anno scorso salvare, ti ha cambiato l'atteggiamento del collettivo, della squadra. Quest'anno, dopo le prime prove, decidi subito di esonerarlo. Cioè, perché si parla di un semplice titolo di coda. Cioè, anche qui parliamo di dilettantismo. Ragazzi, se sono erano semplici, ha maggior ragione dopo quello che ha dimostrato l'anno scorso, solo per le prime tre giornate a cui abbiamo assistito. Questo è dilettantismo. Ripeto, queste robe le fanno i dilettanti, non le puoi vedere in Serie A, queste robe. Se le vedi in Serie A vuol dire che il livello è basso. Vuol dire questo, ragazzi. Vuol dire questo. Vuol dire che in Serie A ci sono squadre con delle società dilettantistiche. E se sei un dilettante non puoi stare in Serie A. Se sei un dilettante devi giocare nei dilettanti, in quelle categorie là. Eccellenza, promozione, prima categoria. Lì devi fare il dilettante. Lì puoi fare il dilettante. Non in Serie A. Non in Serie A. Questa è una roba che mi manda fuori di testa. Mi manda fuori di testa. Cioè, veramente, dopo tre giornate, vai a suonare la semplice. Se lo è solo, per me veramente il Cagliari fa la stessa fine del Verone. Fa la stessa fine. Diventa una società che lavora così, senza senso, senza progettare, senza un senso logico, no? Senza nulla in mano. Alla lunga, ragazzi, poi la verità esce sempre fuori. E quando esce fuori ci devi fare i conti. Ragazzi, non puoi valutare veramente dopo tre giornate l'operato di una squadra ed essere... No, 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 poi possiamo portare qualsiasi esempio. Possiamo portare l'esempio di Allegri. Anche lui adesso di nuovo sulla graticola, secondo i media. Ma è secondo gli stessi tifosi. Ma una cosa è essere fare il tifoso. Una cosa è essere uno che lavora e che vive il calcio. E che col calcio ci guadagna il pane. Perché è professionista, no? E quella è una cosa essere tifoso perché tu lo guardi da fuori e dici Ah, quello è bravo, mi piace come gioco, quello non va bene. No, sono due cose diverse. Sono due cose nettamente diverse. E quindi l'esempio di Allegri credo che sia lampante. Allegri, appunto, al Cagliari, nelle prime cinque giornate, se capite, fa zero punti. E poi abbiamo visto invece uno dei migliori Cagliari della storia recente, perlomeno. Ecco, prima di andare al Milan, sto parlando dell'Allegri pre-Milan. Non so se ricordate, no? Cinque sconfitte nelle prime cinque gare. Cinque sconfitte nelle prime cinque gare. Poi invece Allegri va a allenare Milan, Juventus. E oggi è l'allenatore che tutti conosciamo. Quindi, questo dilettantismo non va bene. Non va bene proprio, ripeto, se facciamo un discorso più ampio non va bene per la Serie A. Perché questo è il dilettantismo. Delirio e dilettantismo che si fondono. Ed è qualcosa che, onestamente, è molto, molto, molto spiacevole. Comunque, a onore di cronaca. Per quanto riguarda il Verona, dovrebbe allenare Tudor. Vedremo. Però, ripeto, queste sono robe buttate lì. Senza progettualità, una roba buttata lì. Devi avere fortuna. Come a questo punto, credo che il Verona abbia avuto tanta fortuna. Tanta fortuna nell'andare a scegliere Juric. Juric, da grande allenatore, perché ha allenato una squadra. E quando abbiamo parlato del Verona, l'ho detto mille volte. Ha allenato una squadra normalissima. Senza individualità eccelse. E ne ha fatto una squadra, non da metà classifica. Forse un gradino addirittura su. Su della metà classifica. E forse adesso pensava il Verona, no? Che qualsiasi allenatore che va, anche se gli levi Zaccagni. Ma ci sono gli altri che poi l'anno scorso hanno fatto bene. Metti di Francesco subito, no? Ci salviamo facile. Non hanno capito una mazza a sto punto. E mi dispiace perché, ripeto, parliamo di dilettantismo a sto punto. E il dilettantismo non può stare in serie A. Punto. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Commentate le carte se volete iscrivervi al canale. Un grande abbraccio. Taneschi.